Trentova è da sempre una delle zone più apprezzate di Agropoli, ma lo stesso non si può dire riguardo la sua sicurezza e i controlli presenti in zona, inesistenti. La piaga dei furti nella Baia continua da anni e anche quest'anno non sono mancati, già dalle scorse settimane ne sono stati registrati vari e l'ultimo caso, datato 31 luglio, è stato denunciato dal turista che ha subito il furto di beni per lui particolarmente preziosi via Fontana dei Monaci e il tratto di strada incriminato dove il turista aveva parcheggiato la sua auto che di ritorno dalla spiaggia nel tardo pomeriggio è stata ritrovata scassinata. All'interno mancavano un computer, due zaini, uno dei quali contenenti documenti di lavoro, appunti e libri, un tablet e altra apparecchiatura elettronica. Il turista si è appellato a tutta la cittadinanza per ritrovare ciò che gli è stato sottratto. Devo assolutamente ritrovare il computer e il tablet con i file all'interno ed anche i libri che avevo in borsa sono disposto anche a pagare perché i file e gli appunti sono frutto di anni di lavoro, scrive il ragazzo su Facebook. Purtroppo ogni anno ci si ritrova a rimarcare la scarsa sicurezza della zona che, nonostante la sua bellezza, non è propriamente controllata al fine di salvaguardare cittadini e turisti da vicende simili. La baia di Trentova, ad ora, ha bisogno di controlli mirati per fermare questi episodi criminali e serve un serio intervento a riguardo.